ciao a tutti piccola intromissione nel canale di kia per dirvi che per chi ancora non lo sapesse io e lui che come al solito fa la persona poco normale abbiamo un canale insieme che chiede in kix e poi lo mettiamo nella cosa di non è più di fianco tra l'altro risulta adesso insomma adesso lo mettiamo con movie maker sempre no non c'è alcuna volta non c'è alcuna volta deve farlo comparire ecco ecco no mettiamo una nuvoletta tipo qui sulla sua testa ma perché vabbè dov'è c'è un suo app sopra la mia qui su o qui fra queste parentesi vedete qua sopra qua in mezzo fai la parentesi come faccio mi rompo il dito falla così ecco ma no non riesco ma ascolta le parentesi e quindi perché insomma tra l'altro sono le 2 26 di notte e quindi niente insomma perché dato che sul mio canale ci sono ancora molti video che abbiamo fatto io e però ormai sono di qualche tempo fa quindi sono passati oltre la gente magari non li vede eccetera eccetera quindi vi ricordo anche il video quello in cui diciamo dovete avere un nuovo canale è dato in giù quindi cioè è difficile reperirci e quindi volevamo ricordarvi questa cosa dato che io ho accumulato mille migliori di iscritti e che io cosa vuoi beh ui non mi chiede niente non mi chiede niente e quindi niente e cosa hai detto? niente vai pure non ho capito cosa ha detto ma non lo porto e vabbè quindi e quindi niente basta non avevamo detto solo questo che figa è della barbie non è della barbie salutiamo quindi no che mi fai del casino sei in cui fraccia il suo fatto sento un nuovo ragazzo me lo presento siamo belli insieme sì molto come dite un naso non è il naso però aspetta basta va bene basta possiamo salutare no 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 assolutamente no no assolutamente no assolutamente no assolutamente no vai via con quel coso va bene salutiamo salutiamo sì cosa fai? niente ciao perché devi sempre pensare male? ciao 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 ciao